Ciao a tutti ragazzi, bentornati sulla spiaggia, bentornati in un nuovo video. Allora, condizioni del mare sono queste. Spettacolari, sergassi, abbiamo arenicola, cortella, americano e pitbull. Adesso ci proviamo, vediamo un po' se esce qualcosa durante il corso della pescata, dai! Allora, ragazzi, io vado una sola canna con la piramide, vediamo, si tira a capate, stanno mangiando bei cefali, stanno mangiando, vediamo se lo tiriamo fino a riva. Cioè, certo. Adesso vi mostriamo anche quelli che abbiamo preso fino adesso. Guardate che bello anche questo, ragazzi. Tutti la stessa misura, il quarto che spiaggia. Sono tutti lustrini. Andiamo qua alla cigaretta. Tutti tutti lustrini, anche questo su, venerà anch'io, qui, eccetera. Bene, si via lì, facciamo vedere quelli di sé. Uno, due, tre, quattro e uno cinque. Questi sono i miei, Alessio ne ha spiaggiati altri dei. Adesso andiamo a vedere la montatura, ragazzi. Allora, ragazzi, il trave è sempre il solito uso, 0,60 come una religione. Noto a 10-15 centimetri dall'inizio del trave, un bracciolo di 50 centimetri, con... qua sopra ho messo un cristal del 6, un amodengoglio innescato con arenicola. E sotto, uguale, un altro amodengoglio innescato con americano. Adesso, ragazzi, andiamo a rilanciare e vediamo se esce qualcun altro tagliere. Ragazzi, allora, condizioni difficili, ma Alessio ha avuto una mangiata, un bellissimo mangiatone. Stavamo guardando la canna. Vediamo cos'è. Una spigoletta. No, è un cefalo, Alessio. È un cefalo. Un cefalo. Bellissimo lustrino, tra l'altro. Ah, è clava, va. Ma è quello qua, regà. Dai, ha mangiato sano americano. Staviamo e rilanciamo. Bella, Alessio. Non pia mai niente. Non pia mai niente. Oggi sappia solo lui. Però sappia i cefali. Attenzione, non è uno specialista quando si tratta di più al cefalo. Eccolo. Hai perso. Hai perso, sarà nuotato verso riva. Dai, dai. Un altro cefalo chi ha parolo, dai. E' al cefalo questo, lo questo. Ma che è troppo forte. Siamo anche Luca. Eccola, ecco la riva. Quari dall'acqua, ecco lo cefalo da come nuota. Cefaloni. Bellissimo, un altro lustrino grosso. Bravo. Vediamo Luca in un recupero. Lo vedo impegnato, quindi... Ero lontano, non so se ha avuto la magnata. C'è Lu? Eh sì, c'è. Ragazzi, l'anno continuando ad uscire. Sono veramente belli. Capite questo che ha preso Luca? Che faccia che è. Veramente bello. Lo sto slamato da solo, stavo a ritornare a serenato. Bello. Anche questo è uscito sulla Renicola. Dai, regà. Andiamo a rilanciare. E sfruttiamo ogni momento buono. Dai, bravo Luca. Dai ragazzi, abbiamo fatto una corsona perché eravamo lontani dalla canna. All'improvviso si è spiombata. La flessione sul cimino c'è. Questa è la 07, è una canna che non flette. Qui abbiamo una flessione sul cimino. Che dici te? Sento, qualcosa ti rama. Che stai ridi? Sì, sì. Oh, oh, oh. Vai, vai. Questa è una vacca di mare, vai. Sì, 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 sì. Non ti fermare. Non devi forzare troppo. Non devi forzare troppo, ma non ti fermare mai. Guarda che piega, regà, sta canna. Dai, mi sta canna sotto l'ascella. Poi ti dico, no, mette la canna da l'ascella. No. Recupera, recupera, recupera. Magari iniziano a girare in direzione. Se girano sull'onda, iniziano a girare in direzione. No, lasciate, lasciate. Recupera, recupera. No, eccolo, rieccolo, rieccolo, è vero? No, ti ha mollato, non senti più il peso. Peccato. Ah, può essere incaglio con Nicola che ha iniziato il recupero. No, noi siamo usciti dall'acqua, no, niente di fatto. Ha mollato a metà recupero. Eccolo, no, c'è, c'è, vai, fuori, fuori, fuori. Vai. 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 Dai, spigola, rega, dai. Dai, dai. Ah, pescati di cefali, dai, ne fammi le spigole. Ah, bella, rega. Dai. Con questo tramonto rilanciamo e rinneschiamo subito. Allora, ragazzi, sulla spiaggia ci ha raggiunto anche Daniele Pizzuti, l'attuale campione in carica di SirCasting, campione italiano in carica. E già i primi lanci, le sue canne iniziano a muoversi, la seconda è spiombatissima. E ancora là, spiombatissimissima. Adesso vediamo un po'. Vediamo, vediamo. Leggero? Leggero. Vediamo sul finale del recupero. Eccoci qua, allora, sulla mitica aspide dell'Italcanna. Campione d'Italia in carica, vediamo che tira fuori, va. Subito fase terminale della giornata. Eccoci qua. Stiamo uscendo dall'acqua. con un ingroviglio di fili, con un bel succherone, no, un bel marmorone per il nostro amico che hanno impicciato però col pescatore vicino. Grande Daniele, primo lancio, prima cattura. Ecco qua, normale, il campione fa la differenza, un'altra mangiata sul lancio successivo. metto i video su YouTube, si viene inquadrato della fastidio. Allora, eccolo qua, Daniele appena arrivato, già purgato con la prima marmora. Vediamo, adesso c'è stata l'altra mangiata. Le nostre canne sono tutte ferme. Campione fa la differenza. Allora, ragazzi, io ne approfitto, lo dico, stiamo organizzando, per chi volesse, corsi di lancio in cui Daniele, insieme al suo amico e campione Adriano, Magliocchetti, danno qualche dritta per migliorare nel lancio. Intanto, ecco qua, un'altra marmora. Daniele, già trovato le marmore in pascolo. Dai, dai, vediamo un po' il trave, vediamo. Il trave è assettato come il nostro, lui pesca più leggero, pesca, sembra un 18 di terminale e ha misgallati. Arregà, dai. Chied如果 a chi non c'è, è un'altra gerazione di minore. Anche, ogni quando c'è, è un'altra marmora. Io, la tua scuola, per il segretto, è un'altra marmora. Un'altra marmora. писa come il nostro, lui esco, chi era un'altra marmora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.